e continuano ad attaccare in qualsiasi modo vita privata dalle persone. Questo è il vero fascismo, questo è il vero fascismo. Ce l'hanno questi giornali qua, sono i giornali con le altre tasse. Appena andiamo su, la prima cosa tagliamo questa gente qua. Poi, Walter, Walter, Walter sta con me, fa con me, fa la logistica, mi protegge. Non lo vedo mai, ma era tutto sotto controllo. È un ragazzo formidabile. Poi c'è, poi c'è Pietro, Pietro, è un tecnico informatico ed è l'unico che vada a tutti. Mi dettiene il suo regalamento con il computer, l'ha messato, quindi è troppo normale. Mi ha messato, mi ha messato, mi ha messato, allora, tutto bene. Bene, sono i quattro, adesso voglio presentarvi da dove è iniziato...